eseguirò una romanza del 1500 di Antequera sale e il moro di Miguel de Fogliana eseguirò una romanza del 1500 di Antequera sale e il moro di Miguel de Fogliana eseguirò una romanza del 1500 di Antequera sale e il moro di Miguel de Fogliana eseguirò una romanza del 1500 di Antequera sale e il moro di Miguel de Fogliana Grazie a tutti. Grazie a tutti.